No, non è così, il problema sono i vaccini, se invece vogliono vaccinare altri vaccini Lasciate, ma non lasciate, vuole che mette in marcia? Siamo all'aperto e vuole la mascherina e io gli ho subito riscatto per evitare qualsiasi ruppura di scatole da parte da... Il problema è che l'Italia è un paese che ha grande cuore, i russi avranno il canale Ha detto, l'europea ha detto che basta con le reti... ...quadrato a non disperderci e a portare avanti la libertà, perché la libertà ve lo ripeterò ...resistenza! ...ma che siate qui per voi stessi, per la vostra comune...